Un quadro ancora negativo a quello che emerge dai dati dell'Inail sugli infortuni del lavoro relativi all'anno 2022 in Campania. A spiegarlo è col diretti dopo una giornata di confronto proprio con i vertici Inail al Parco San Paolo di Fuorigrotta. Nel 2022 le denunce totale di infortuni sul lavoro in Campania sono state 33.000 che per quasi 26.000 lavoratori riguardano i settori dell'industria e dei servizi. Nello specifico i casi dell'industria sono circa 5.000, superano gli 800 nell'artigianato e sono oltre 6.000 nel terziario. Tra i dipendenti pubblici e altri comparti gli infortuni denunciati sono oltre 6.200. Infine in agricoltura i casi di infortuni sul lavoro sono poco più di 1.000. Analizzando le denunce per provincia emerge che in Irpini i casi sono 1.666, nel Sannio 1.475, nel Casertano 4.483. Nel Napoletano 16.735, nel Salernitano 8.729. L'incidenza maggiore di infortuni riguarda però la provincia di Salerno con lo 0,82% di casi, seguita da Napoli e Benevento con lo 0,56%, Caserta con lo 0,50%, Chiude Avellino con lo 0,41%. Grazie.